Filippo Riguzzi, la maglia della PSA Modena si arricchisce da oggi, un nuovo main sponsor, Banca San Felice, una inaugurazione di questa partnership abbastanza tipica in un cavo molto molto particolare, le emozioni di questa giornata da parte tua. Innanzitutto ringrazio questi signori che ci hanno ospitato in questo bellissimo posto.